Amici dei due minuti di gas, buongiorno. Oggi due minuti di gas girati in movimento perché sto andando a fare uno spiccio a una convention aziendale negli Abruzzi. Il tema è il primo intervento che verrà fatto a Imprenditore 360 il 13-14 aprile a Milano. Primo intervento Valerio Malvezzi. Potete vedere nella mia fanpage l'intervista trailer che ha rilasciato. Il tema è il business plan. Mai come in questo momento il mercato dei capitali è accessibile a tutti. Piattaforme crowdfunding, business angel, mercato dell'AIM, mercato delle cambiare finanziarie, mercato dei bond, mercato dei bond rotativi. Mai come oggi c'è la possibilità di approcciare al mercato dei capitali. Però bisogna farlo in una certa maniera. E cioè bisogna farlo presentandosi nella giusta maniera con un progetto che sia chiaro. Ecco che allora il business plan è un documento fondamentale sia per chi vuole aprire un negozio sia per chi vuole fare una multinazionale. È esattamente lo stesso documento. Cambiano i contenuti ma il documento è lo stesso. Valerio Malvezzi è una delle voci più autorevoli in Italia su questo argomento. Sa come parlare agli enti finanziari, sa quali dati sono importanti, sa quali informazioni sono importanti. E allora se tu vuoi vedere dal vivo questo intervento e soprattutto se tu vuoi imparare e uscire da imprenditore 360 e capire come farti capire al mondo finanziario, assolutamente questa è l'opportunità giusta. Vai a vederti l'intervista sulla mia fanpage, l'intervista doppia che ho fatta a Valerio Malvezzi, vai a vederla e renditi conto e poi digita imprenditore numero 360.it e iscriviti immediatamente. Buona giornata e buon sabato.